Buonasera per i ritrovati all'appuntamento con il FAT. Oggi parliamo di storia perché ci stiamo avvicinando al 27 gennaio, al giorno della memoria. Ci saranno tante, tantissime iniziative in Abruzzo e questo è un fatto molto positivo che innanzitutto le istituzioni, poi anche le scuole, la società civile e tutto il mondo associativo ricordino per non dimenticare quanto è accaduto in quei momenti tristi, i più tristi forse della storia dell'uomo moderno. Per ricostruirli ne parliamo in studio con uno storico che ha accettato il nostro invito, lo salutiamo e lo ringraziamo per il contributo che ci darà, il professor Enzo Fimiani, buonasera professor Fimiani, cento di storia contemporanea all'Università d'Annunzio, con il quale innanzitutto vorremmo in questo quarto d'ora fare un po' il contesto su quello che gli storici hanno ormai, anche se magari forse il lasso di tempo non è ancora quello per cui si faccia completamente storia, però hanno stabilito come punti fermi su quanto è avvenuto perché a volte anche i punti fermi vengono messi in discussione e così non può essere. Professor Fimiani, cos'è la Shoah? Bene, buonasera a tutti, per Shoah ormai si intende con questa parola di origine ebraica che vuol dire catastrofe, distruzione, si intende il progetto di sterminio, di genocidio, quindi di sterminio assoluto, completo del popolo ebraico da parte della Germania nazionalsocialista attraverso un sistema di campi di sterminio che ha costellato gran parte dell'Europa, dell'Europa centrale e dell'Europa orientale. E' chiaro che l'antisemitismo storicamente aveva radici antiche, se non antichissime, lo sappiamo bene, non soltanto in Germania ma in larga parte dell'Europa ed anche nell'est europeo. E poi con l'avvento al potere di Hitler e del nazismo a partire dal 1933 c'è stato ovviamente un incrudelirsi dell'antisemitismo che ha portato alla legislazione anti-ebraica nazista a partire da quella più famosa del 1935, le cosiddette leggi di Nuremberg. Da quel momento in poi l'Europa come sappiamo è scivolata rapidamente sul piano inclinato delle tensioni internazionali, delle tensioni politiche o ideologiche che hanno condotto, come sappiamo, la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale il progetto di persecuzione antisemita da parte della Germania nazista ha incontrato ovviamente la decisione fatale della cosiddetta soluzione finale del problema ebraico che appunto ha previsto la costruzione, l'organizzazione di una serie di campi di sterminio sparsi per l'Europa cento-orientale. Noi ricordiamo molto spesso questa fase, cioè la fase all'interno dei campi di sterminio e su questo io vorrei dire due, se è possibile, fare due riflessioni. La prima appunto è questa che la fase in realtà era iniziata molto prima perché le persecuzioni anti-ebraiche nella Germania nazista a partire dal 1935 sono state comunque durissime, pensiamo soltanto ciò che è accaduto agli ebrei in Austria dopo il cosiddetto Anschluss, cioè l'annessione della Germania, dell'Austria da parte della Germania nazista nella primavera del 1938, poi l'annessione prima di una parte e poi di tutta l'area della Cecoslovacchia tra la fine del 1938 e prima del 1939, quindi già gli ebrei dell'area Cecoslovacchia e prima di quella dell'Austrica avevano conosciuto le terribili conseguenze concrete, pratiche della prassi, non soltanto dell'ideologia, questo è il punto, l'ideologia che in qualche modo si fa prassi, della Germania nazionalsocialista. Subito dopo l'inizio della guerra ad est, cioè dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista e, come sappiamo, dell'Italia fascista, che sarebbe stato uno dei paesi che avrebbero contribuito, seppur ovviamente in misura assai meno rilevante, ma comunque sostanziale, che non possiamo mai dimenticare, niente affatto irrilevante, anche e soprattutto per la storia italiana, avrebbero contribuito alla Shoah. L'invasione dell'Unione Sovietica dal giugno del 1941 ha portato a un'accelerazione di questo progetto, perché si sono a quel punto occupate, incontrate ed occupate una serie di aree nazionali ad est che avevano una larghissima, una molto forte presenza ebraica, quindi lo sterminio è cominciato subito non nei campi di sterminio, è cominciato con altre purtroppo tecniche di sterminio, come la fucilazione di massa per esempio, che condussero a una serie di traumi da parte di molti soldati tedeschi che erano costretti dai comandi a fucilare in massa gli ebrei dell'est, insomma ci si rese conto nella macchina, nello sterminio che purtroppo servivano altri mezzi per uccidere in massa e questa è la seconda cosa che voglio dire, cioè la rete di campi di sterminio e non di concentramento come molto spesso si chiamano, per esempio Dachau, il campo di Dachau a poco a nord di Monaco di Baviera è stato un campo di concentramento non di sterminio, certo lì dentro sono morte alcune decine di migliaia di persone, però non erano campi destinati in senso stretto allo sterminio, la costruzione di questi campi a partire dal 1941 e il 1942 determina un salto di qualità non soltanto nel numero delle uccisioni, ma determina un fattore fondamentale al quale io se posso, se ho un minuto direttore, bypassso in qualche modo qualche eventuale altra sua domanda, però mi sembra importante fare questa riflessione, cioè quello che noi adesso facciamo nei confronti della Shoah in questo momento, lo stiamo facendo anche in questo istante, è quella che gli storici chiamano Public History, cioè la divulgazione pubblica, collettiva della storia e delle acquisizioni dell'astrografia su questa storia, ma noi in realtà stiamo lavorando sulla memoria più che sulla storia, questo è il punto, la relazione non sempre facile, qualche volta non sana, se così posso dire, tra storia e memoria, è uno dei grandi problemi di fronte ai quali si trovano gli storici nel loro mestiere, ma le società tutte, le autorità pubbliche, gli stati, perché noi stiamo ragionando non tanto sulla storia, ma sull'interpretazione che di questa storia le generazioni successive hanno, quindi stiamo lavorando sulla memoria, molto spesso la memoria, lo sappiamo bene, noi in Italia più di tutti, sulla memoria si combatte una sorta di battaglia del passato, per l'appropriazione del passato, per la riscrittura del passato, spesso senza timori per usi politici, a fili di legittimazione del presente, questo è il punto, e in Italia come sappiamo non riusciamo ancora a fare pace proprio con quella storia. E com'è possibile che anche tra gli storici in una certa minoritarissima storiografia si faccia spazio a una tesi negazionista sulla Shoah, sull'orocausto? Il negazionismo più che stare dentro la storia della storiografia, cioè la storia dei modi con i quali gli storici, attraverso strumenti, metodi più o meno scientifici cercano di arrivare a una verosimile interpretazione del passato, questa è la storiografia, il negazionismo attiene di più alla sfera appunto della memoria. E dentro questa sfera come dire, i colpi bassi sono più facili, più possibili, anzi, perché c'è il tentativo di riscrivere il passato non per quel passato in sé, ma proprio per giustificare un presente, negare. La Shoah significa a monte in qualche modo attenuare, negare, rielaborare, riscrivere le responsabilità dei regimi nazifascisti, diciamo così in senso lato, in Europa e le loro responsabilità appunto storiche in quella cruciale fase del Novecento. Dico nazifascisti perché se oggi noi andiamo in Europa, tutta, ma anche negli Stati Uniti, il termine fascismo, che noi in Italia spesso usiamo, come sappiamo, in senso polemica, quasi quotidianamente ormai in Italia, ma questa è un'altra storia, il termine fascismo indica quella storia, indica quei regimi, indica quella ideologia, ancora oggi nell'uso comune, corrente, non sto parlando degli storici, sto parlando dei cittadini, del discorso pubblico, quindi dire nazifascismo non è una forzatura tutt'altro. Sulla memoria quindi, quindi il nazifascismo lavora su questo, sulla riscrittura e il cosiddetto uso pubblico della storia, come dicono gli storici, o uso politico, rispetto a questo, alla dimensione della memoria, ho sempre pensato che non ci abbia fatto bene una certa, diciamo, didattica, se così posso dire, della Shoah, un certo discorso pubblico sulla Shoah, quindi sia didattica che discorso pubblico, nel senso che per decenni ho stesso assistito, potete immaginare, a quante decine di iniziative pubbliche organizzate da pubbliche amministrazioni in Italia, sono stato una marea di volte nelle scuole, ho partecipato a un altrettanto elevato numero di volte a iniziative pubbliche in senso lato, tutto quello che costituisce quello che gli storici chiamano il discorso pubblico, la narrazione pubblica, che sulla Shoah ha sempre avuto, qualche volta in maniera preponderante, un approccio rispetto alla Shoah di tipo emotivo, se così possiamo dire, cioè che fa leva di più sugli aspetti dell'emozio, piuttosto che della razio, cioè del cervello, dell'interpretazione più razionale, l'emotività è data dal fatto che ci si emoziona, ci si commuove ovviamente per il destino delle vittime, dei morti e dei sopravvissuti a stento, diciamo così, e quindi si piange in qualche modo il loro terribile destino e la crudeltà, diciamo così, dei loro carnefici. Questo approccio emotivo, che è cosa buona e giusta dal punto di vista umano di ciascuno di noi, non ci fa però capire la storia, noi dovremmo ribaltare il paradigma pubblico rispetto alla Shoah, cioè guardare in maniera approfondita, in maniera razionale, con il cervello più che con il cuore, diciamo così, alla perfetta organizzazione genocidiale dell'apparato di sterminio nazista, nel senso che per uccidere in massa decine di migliaia di persone, Auschwitz che è un po' il campo di sterminio simbolo di questa costellazione di campi di sterminio, ad Auschwitz nei giorni migliori, tra virgolette si fa per dire, si decinevano al giorno decine di migliaia di persone, per fare questo serve un'organizzazione industriale per la morte di massa, quindi serve un meccanismo perfetto che coinvolge migliaia, decine di migliaia di persone, di esecutori, di organizzatori che ha dietro una struttura, che ha dietro una razza, che ha dietro scelte organizzative e razionali, questo è il punto, solo noi, soltanto in questo modo capiamo la Shoah, cercare di far capire ai giovani come sia stato possibile che un intero regime abbia destinato le proprie grandi capacità organizzative, perché questo è il punto, alla morte di massa di milioni di persone. Professore, abbiamo soltanto tre minuti nei quali però io vorrei andare sull'attualità strettissima, perché è facile, soprattutto in questo periodo con il conflitto che si è inasprito in Medio Oriente, che i rigurgiti e i antisemiti si mescolino ad altre, visioni sulla storia contemporanea, c'è questo rischio a suo avviso? Allora sì, intanto diciamo a monte che lo sterminio non è stato soltanto per gli ebrei, come sappiamo tante altre categorie di diversi, politici, i modi omosessuali, a livello religioso, i rom, i sinti, ci mancherebbe altro, non dimentichiamolo mai questo, detto questo sì, oggi siamo di fronte a un 27 gennaio molto particolare, ciò che sta accadendo dal 7 ottobre in poi nell'area israelo-palestinese, che ha sorpreso moltissimi colpevolmente, poteva sorprendere soltanto chi non leggono la realtà con gli occhi storici del tempo lungo, era una ferita mai suturata della storia contemporanea, quella tra Israele e Palestina. Detto questo, gli eventi che sono accaduti ovviamente danno luogo oggi, come ben sappiamo, a rigurgiti di antisemitismo evidenti, che evidentemente stavano dentro, nelle vene di molte delle società occidentali, come le chiamiamo oggi. Questo è il punto, su questo ci dobbiamo confrontare, dobbiamo riuscire a scindere la questione storica della Shoah e la tragedia degli ebrei a livello planetario con i fatti, gli eventi di oggi, invece tendiamo continuamente, vedete, sul piano memoriale a una commistione tra la storia più o meno recente e la più stretta attualità e questo è uno dei grandi problemi del nostro tempo. Bene, io ringrazio Enzo Fimiani per questo contributo che io ritengo significativo di introdurci alla giornata del 27 gennaio, auguriamo un buon 27 gennaio perché deve essere una data in cui non c'è solo la memoria ma c'è anche l'impegno di tutti per ricordare ciò che questi fatti hanno rappresentato per l'umanità, per il suo destino, non soltanto, come diceva il professor Fimiani, a livello emotivo ma anche a livello storico, a livello delle cose che sono realmente accadute, che nessuno potrà far dimenticare. Grazie, buona serata. Grazie a voi.